Se devo essere proprio sincero, ieri sera ho finito di lavorare a luna di notte, non ho avuto modo di leggerle analiticamente, quindi ho letto alcuni stralci e ho parlato con il mio avvocato. Per me la legge Severino in questo momento rappresenta il passato, perché è una vicenda che non mi riguarda più per nulla, perché sono stato assolto nel merito. Quindi adesso la questione Severino è una questione che attiene secondo me al legislatore, che credo che la Corte Costituzionale sotto diversi aspetti abbia messo una parola fine. Non so se ci sono ulteriori spazi con cui si possa dichiarare l'incostituzionalità, mi sembra che la Corte non lasci particolari margini da questo punto di vista, quindi sta al legislatore nella sua autonomia fare una valutazione. Io come sempre ho detto, lo penso anche oggi, della legge Severino ci sono delle cose buone e delle cose cattive, però la Corte Costituzionale ha scritto questa sentenza, è un tema che non mi riguarda più, quindi ho fatto le mie lotte, le ho vinte, sono stato assolto, a Severino mi ha portato anche fortuna alla fine.